Io spero che una vera donna non venga mai, cioè io non credo che verrà mai con tutto rispetto, tu hai seguito bene le puntate, lui le ha seguite bene Ma tu stai facendo davvero o stai scherzando? Qualcuna l'ho vista No no ma tu sei convinta di quello che stai dicendo? Io sono convinta di quello che penso Tu stai dicendo vicinato una ragazza che scende per me, hai seguito bene? Hai seguito le puntate che ti ammando? Tu sei stata verbalmente poco sensibile dieci minuti fa nei confronti di un ragazzo che aveva una sensibilità d'anima che faceva paura Quindi no la caratteristica mia fosse uguale alla tua, tu sei venuta qui per rompere le scatole a me, lascia proprio perdere e lascia perdere perché lo puoi fare anche con altri modi e con altri toni Ok però l'unico modo per comunicare con te è parlarti sopra perché tu non lasci parlare e poi appena uno ti dice A, la tua contro risposta è ma tu fai B, sei ottuso, sei mentalmente chiuso Tessura guarda che tu affegno con le parole, sei mentalmente chiuso perché io non ti ho mai visto sorridere Ma guarda che stai continuando, stai continuando a parlare, ma lei ti ha fatto una domanda, ma voi parlare per tre puntate E basta, penso che tu sei scostumata, e ricordati che canchi abbaia non morde, ricordatelo Non te lo concedo di darmi della maleducata, non te lo concedo, tu le donne non le sai trattare No, no, no Grazie a tutti